Salve, sono Judith Collenburg. Io sono Edgar Elzerman e questa è un'edizione speciale estiva di PLMA Live. Lanciato lo scorso settembre, il PLMA Live porta le notizie e le informazioni sul mondo della distribuzione e del marchio del distributore sui vostri computer, portatili, tablet o smartphone, visitando il sito www.plmalive.eu. Il programma è trasmesso in cinque lingue, inglese, francese, tedesco, spagnolo e italiano. Vengono scelte le storie per darvi un approfondimento su ciò che accade nel nostro settore. Le battaglie sui prezzi scoppiate in alcuni paesi sono state nei pensieri di molte persone. Sono un elemento positivo per il marchio del distributore. Ecco a voi cosa abbiamo trasmesso lo scorso dicembre. Per i supermercati le battaglie sui prezzi possono provocare un continuo taglio dei profitti e una complessiva diminuzione del fatturato. I motivi sono ovvi. Prima di tutto, i vantaggi di prezzo durano poco. Quando qualcuno taglia i prezzi, gli altri lo seguono subito. Ed ecco che la quota di mercato della società cambia poco. Poi, le abitudini dei consumatori cambiano. Si ricordano del prezzo più basso pagato su alcuni articoli molto tempo dopo la fine della battaglia sui prezzi. E allora diventa molto difficile riaumentarli. Il Regno Unito è un buon esempio. È la capitale delle promozioni in Europa, con il 55% degli alimentari comprati in promozione. Questo dato, oltre a segnalare una crescente riluttanza degli acquirenti inglesi a pagare il prezzo normale, mostra che il volume delle vendite non è aumentato. Ma anzi, i margini sono scesi. Adesso i supermercati britannici si stanno preparando per la prossima fase della battaglia dei prezzi. Sainsburyers, che ha riconquistato il titolo di secondo maggior supermercato britannico, presenterà per la prima volta il suo brand match su migliaia di articoli online. Tesco, dopo una nuova analisi su gamme e categorie in vendita, si sta preparando per una strategia più aggressiva. Gli altri supermercati, presto o tardi, dovranno fare la stessa cosa e la corsa al ribasso peggiorerà. In Germania, i due maggiori discount, Aldi e Lidl, si contengono la leadership di mercato con i prezzi dei beni di marca. Nella competizione ora sono entrati anche altri supermercati, come Netto e Kaufland. Fino ad ora la gamma di prodotti di Aldi era diversa da quella di Lidl. Aldi si concentrava sul marchio del distributore, meno caro, mentre Lidl vendeva molti prodotti di marca a prezzi bassi. Pur se questa offerta non è mai stata l'attività principale del suo business model, anche Aldi ora inizia a proporre un maggior numero di prodotti di marca nel suo assortimento. Non è sicuro per quanto tempo si protrarrà questa battaglia, e gli esperti non credono che i prezzi abbiano già raggiunto il minimo. Grazie agli smartphone e agli astuti giovani acquirenti, prendono sempre più piede i confronti e gli abbinamenti sui prezzi. Varrà anche per il marchio del distributore. È una domanda fondamentale che i distributori devono rivolgersi. Potrebbero correre un serio pericolo se iniziano a praticare una strategia di battaglia sui prezzi per il loro marchio del distributore. Offrendo ai consumatori il marchio del distributore, si mette in gioco l'immagine e la reputazione del punto vendita. Potrebbe essere un suicidio correre questo rischio. Per i distributori e i loro fornitori sono importanti anche le tendenze di acquisto dei consumatori. Ecco a voi un breve report sulla Generazione X che abbiamo trasmesso a marzo. E poi viene la Generazione X, dagli 11 ai 20 anni. Questi cosiddetti screen-ager sono sempre incollati agli schermi dei loro smartphone. I più adulti iniziano a diplomarsi, a entrare nel mondo del lavoro e a produrre il proprio reddito. Sono stati plasmati dai social media, dall'e-commerce e dai servizi on demand. Sembrano dare meno importanza alla privacy e ritengono che il marketing personalizzato faccia risparmiare tempo e denaro. Alcuni esperti di marketing dicono che per raggiungere questo gruppo i distributori dovranno creare video che forniscono informazioni utili, intrattenimento e che li attraggono al punto tale da farli vedere a famiglie, amici e follower e quindi convincere anche loro. Guardate le pubblicità di Edeka e vedrete come si fa. Gli studi dimostrano che la Generazione X, forse per la giovane età, è quella meno interessata alla salute e al benessere e che compra meno frutta e verdura rispetto a tutte le altre generazioni più adulte. Ha una maggiore tendenza a mangiare snack tra i pasti, una maggiore probabilità di comprare cibi precotti e ritiene importante che le confezioni di cibo e bevande si adattino al loro stile di vita movimentato. Utilizzano agevolmente pagamenti online con lo scanner e si aspettano un'offerta multicanale ben sviluppata da parte dei distributori. Le fasce demografiche degli adolescenti e degli anziani rappresentano una sfida per i distributori e per i loro fornitori del marchio del distributore. Il problema non è solo come adattare i loro programmi del marchio del distributore ai canali di vendita, all'offerta dei prodotti e al confezionamento, ma anche come comunicare con questo target di pubblico. Un argomento predominante per PLMA Live è il cibo. Ecco il mio report sugli alimenti biologici. È stato trasmesso a maggio. I prodotti biologici si sono rapidamente diffusi nei mercati di tutto il mondo e sono passati dagli 11 miliardi di euro nel 2004 ai 30 miliardi dell'anno scorso. I distributori hanno fatto fatica a seguire questo passo. L'interesse per i cibi biologici è iniziato con i consumatori della fascia alta, istruiti, che sceglievano con attenzione i prodotti, ma la loro popolarità si è poi diffusa in tutte le categorie demografiche. La gente oggi si rende conto che il cibo biologico è più sano. I neogenitori danno grande impulso all'andamento dei prodotti bio. Hanno contribuito alla tendenza anche le preoccupazioni per l'ambiente, l'interesse alla provenienza del cibo e al modo di coltivazione e il desiderio di informazioni pulite sugli ingredienti. L'offerta di cibi organici fa parte del loro modo di pensare. Certo, la parola biologico non necessariamente ha lo stesso significato per tutti. Il termine biologico si riferisce al metodo di produzione. La produzione biologica è un sistema completo di gestione delle aziende agricole e della produzione alimentare che punta ad un'agricoltura sostenibile, a prodotti di alta qualità e all'impiego di processi che non danneggiano l'ambiente, gli esseri umani, l'integrità e il benessere delle piante e degli animali. Per aiutare i consumatori a prendere scelte consapevoli, la Commissione europea nel 2010 ha introdotto un logo biologico specifico per l'Unione europea, andando a completare precedenti provvedimenti legislativi e stabilendo un ampio quadro generale di regole e requisiti in materia di produzione, lavorazione, trattamento e certificazione dei prodotti alimentari biologici. I supermercati e gli ipermercati hanno di pari passo incrementato l'offerta di vari marchi di prodotti alimentari biologici, ampliando lo spazio ad essi dedicato negli scaffali e lanciando i prodotti alimentari biologici con il proprio marchio. Qualche consumatore si è chiesto quanto siano veramente genuini questi cosiddetti prodotti biologici. La Commissione europea sta cercando di risolvere questo aspetto. L'Unione europea vuole introdurre regole più severe per la produzione e la vendita di prodotti con l'etichetta ufficiale biologica. Vuole eliminare le molteplici eccezioni che rendono un prodotto biologico composto non al 100% da ingredienti biologici. La Commissione prevede anche di aumentare drasticamente i controlli. Fino ad ora, gli addetti al controllo hanno verificato principalmente le aziende agricole e il resto della filiera di produzione non è stata vigilata con altrettanta attenzione. I grossisti vengono ispezionati raramente e i distributori e i subcontraenti mai. La Commissione prevede di modificare anche questo sistema. Il fenomeno bio continuerà. Gli esperti del settore dicono che sarà difficile tornare indietro ora che i consumatori hanno fatto le proprie scelte. Anche la sanità e la bellezza rappresentano una grossa parte dell'attività del marchio del distributore. Ecco a voi un report trasmesso in aprile sulla crescita e le opportunità in queste categorie. Grazie, Veronica. L'argomento di oggi è il mercato dei prodotti di salute e bellezza. Qui in Europa c'è un cambiamento. I prodotti di salute e bellezza non sono più un'esclusiva dei distributori specializzati o delle catene farmaceutiche. Oggi assistiamo all'ingresso dei distributori di alimentari e dei discount in questa categoria di prodotti in rapida espansione. Anche questi operatori infatti stanno sviluppando l'offerta di prodotti di salute e bellezza nei propri punti vendita e stanno creando un'ampia gamma del marchio del distributore. Anche i negozi di moda come H&M stanno lanciando le loro proprie linee di bellezza del marchio del distributore. Ci sono ora anche catene discount di prodotti di bellezza, come l'italiana Kiko, con oltre 500 punti vendita in Europa, che vendono interamente i prodotti con il proprio marchio. La Germania è il maggiore mercato europeo nel settore salute e bellezza, con un volume di oltre 13 miliardi di euro, seguita dalla Francia con 10,5 miliardi e dal Regno Unito con 10,4 miliardi. La quota del marchio del distributore varia dai massimi del 42% in Spagna e 33% in Austria, ai minimi del 12% in Olanda e 10% in Norvegia. In Germania la quota è del 26,5%, nel Regno Unito del 23,9% e in Francia del 16,4%. E queste cifre non tengono conto delle farmacie. La categoria salute e bellezza non solo sta cambiando, ma sta anche conoscendo un marketing più sofisticato, dovuto in parte dalla grande diffusione dei videotutorial su Internet. Si stima che su YouTube sono visti ogni anno circa 45 miliardi di video sulla bellezza, molti dei quali sono chiamati holds, o come fare per, e mostrano i prodotti appena acquistati e le spiegazioni sull'utilizzo. I distributori si sono resi conto dell'importanza dei social network e hanno iniziato a lavorare con blogger e vlogger per introdurre nuovi prodotti e aumentare la popolarità del marchio del distributore. Per esempio, la francese Sephora, che ha una quota di vendite del marchio del distributore pari almeno al 50%, collabora con centinaia di questi cosiddetti influencers per far conoscere i propri marchi esclusivi come Too Faced e Benefit. DM, il primo operatore del mercato tedesco nel campo della salute e bellezza, ha lanciato un nuovo marchio cosmetico chiamato Trended Up. Prima di lanciare il marchio, DM, seguendo attentamente le moderne tecniche di marketing, ha invitato i bloggers ad un'anteprima. Come previsto, i prodotti Trended Up sono stati ampiamente diffusi con i video e sono diventati un argomento di punta nei social media. Ci sono poi distributori che introducono prodotti premium e a valore aggiunto per diversificare la propria offerta. Sia Aldi che Superdrug hanno sorpreso il mercato britannico lo scorso autunno con il lancio dei prodotti per la cura della pelle con ingredienti sofisticati a prezzi aggressivi. Aldi vende creme per il viso con caviale e Superdrug offre creme giorno e notte che contengono il tartufo nero. Tenendo in considerazione l'invecchiamento della popolazione che ha un maggior potere di spesa, si prevede che le vendite dei prodotti contro l'invecchiamento registrano un aumento del 10% nei prossimi tre anni. L'Idol sta già riscontrando un gran successo con la sua crema anti-invecchiamento CNQ10, che ha ottenuto un punteggio molto alto nei testi di confronto per i consumatori. Ora ha preso come portavoce per la sua campagna pubblicitaria la reginetta di bellezza Malika Mannard. E poi, certo, una delle tendenze più curiose è la crescente domanda di prodotti specializzati per salute e bellezza da parte della clientela maschile. Nel Regno Unito, i prodotti maschili per la cura del viso hanno registrato la crescita più forte durante lo scorso anno, con le vendite che sono aumentate di circa l'8% e che rappresentano il 16% del mercato dei prodotti maschili per la cura della persona. Il crescente aumento dell'utilizzo di prodotti come burro cacao per le labbra e creme per gli occhi indica che per gli uomini le abitudini di cura della propria pelle stanno diventando più efficaci. Le creme idratanti per il viso sono utilizzate da un britannico su 5 e un italiano su 5 è interessato a provare un trucco per il viso per nascondere le occhiaie. I distributori come The Body Shop offrono speciali prodotti maschili come shampoo e bagno schiuma, scrub per il viso e serum per gli occhi. Il marchio Le Cosmetic Design Paris della francese Carrefour ha delle sottomarche per prodotti maschili come la tinta per i capelli, le creme idratanti, le creme anti-invecchiamento della pelle con il nome Men Active. Il mercato della salute e bellezza sta prendendo slancio. L'ampia varietà di distributori che vendono i prodotti e che sviluppano i propri marchi sta realizzando una linea cosmetica attrattiva di alta qualità per i consumatori di tutte le età. Il risultato è rappresentato da maggiori opportunità di crescita del marchio del distributore. Certo, guardiamo anche al futuro. Judith ha parlato con il presidente di PLME, Brian Sharoff, dei programmi per il resto dell'anno e per il 2017. Brian, cosa dobbiamo attenderci dalla PLME nei prossimi mesi? Judith, come sapete, la PLME non si ferma quando l'evento è finito. Il nostro prossimo programma, naturalmente, è il programma di università Nienrode e il nostro programma di formazione esecutive. Questo è davvero un buon programma perché permette alle persone che sono interessate a capire il marchio del distributore, di sentire da professori persone del settore di ottenere una molto buona conoscenza delle tendenze che si stanno avvenendo. Sarà nel mese di ottobre, è una delle cose più importanti che facciamo durante l'anno. È già iniziata la preparazione per lo show del prossimo anno? Sì, davvero, hanno iniziato i preparativi. Dio mio, i preparativi per l'evento del prossimo anno sono in corso da sei mesi. Come lo spettacolo comincia a prendere forma, stiamo già prendendo decisioni su cui sale espositive che andremo a utilizzare, che tipo di espositori ci interessa, come possiamo aumentare la partecipazione del rivenditore. Quindi questo è un processo che è iniziato prima della fine dell'ultimo spettacolo e ora naturalmente sta accelerando molto. Così la nostra brochure sarà pronta a breve, la pubblicità è in fase di progettazione. Tutte queste cose sono in corso, anche mentre parliamo. Cosa ci puoi dire sulla crescita del marchio del distributore? Vedi aumenti nelle quote di mercato qui in Europa? Gli ultimi numeri di Nielsen, quelli che abbiamo avuto all'evento e quelli che abbiamo recentemente rilasciato, rendono evidente che la quota di mercato del marchio del distributore sta continuando a crescere in quasi tutti i paesi europei. Questo è estremamente importante perché come più produttori e rivenditori sono coinvolti, meglio è per i consumatori e meglio è per l'industria delle etichette private in generale. Così vediamo la crescita in ripresa e sono sicuro che lo vedremo anche in termini di crescita dell'evento in 2017. Cosa possono fare i distributori e i produttori per costruire la propria attività del marchio del distributore? La cosa più importante che i fabbricanti e i rivenditori possono fare è di avere lo stesso impegno per la qualità che hanno avuto per diversi anni. È vitale perché i consumatori, quando acquistano un marchio del distributore, sono interessati ad un prodotto che ha la stessa migliore qualità rispetto a Calciasi e a Brand. Vogliono assicurarsi che stanno ottenendo il valore per il loro denaro. Così la chiave del successo in marchio del distributore è chiaramente qualità. Insieme a qualità viene innovazione, arriva assortimento. Tutte queste cose penso vendremo ancora più mentre andiamo al 20.17. Grazie Brian. Grazie Judith. Allora ecco qui, la nuova maniera della PLM per stare al passo delle tendenze e degli eventi nel settore del marchio del distributore. Ricordate, ci trovate sui vostri computer, portatili, tablet o smartphone ogni mese al sito www.plmlive.eu. Guardate le notizie, non limitatevi a leggerle. Grazie a tutti.